Ok andiamo a vedere le musiche di Just Dance 2018 Allora hanno messo anche lui Bruno Mars Azzardato però tanto tagliano Tagliano dei pezzi ricordatevelo Ecco questa è un po' una canzone un po' da ballare però non molto Questa ritorniamo all'indietro agli anni 60 E questa molto bella dei Clean Vendit e Sean Paul Anche questa non è nuovissima Quella di prima si Questa è giapponese Giappucinciu proprio E questa non la ballerò per niente Questa Shakira E' quasi nuova E' passato un mese però Va di moda Questa è nuova anche questa Questa è di Natale però anche se arriva ad Ottobre Questa è Rihanna Grande Non è nuovissima però ci sta da ballare E tante altre ce ne saranno in Just Dance 2018 Balleremo Canteremo Ci divertiremo Assieme a voi Ma andiamo a vedere le altre musiche che ci sono Perché ce ne sono altre Perché ce ne sono altre News Compilation Just Dance 2018 E questa ci mancava a tutti noi Ed è arrivata Questa è nuova anche questa Sì il ballo non è che sia Ecco questa è un po' Sarà difficile ballarla però Sì un po' da scemi balliamo Questa E questa dobbiamo ballarla a tutti Questa E anche lei balleremo Questa è la Shakira Ancora Questa è vecchia Sì non mi vestirò mai così come questo qua Perché proprio non mi vestirò Questa è nuova Questa proprio Proprio taglio via questa Della capra di Questa è nuova E' uscito anche il video ieri E si può vedere che Katy Perry C'è un pezzo di Just Dance E tante altre arriveranno più avanti Sul Just Dance 2018 Per cui rimanete collegati A presto Ebbene abbiamo visto la Ebbene abbiamo visto la Le compilation che ci saranno I balli che ci saranno dentro A Just Dance 2018 Che arriverà ad ottobre Come sempre Arriverà ad ottobre Ci divertiremo Balleremo Canteremo E tutto E tutto Ve lo faremo vedere Bene Perché Noi Vi faremo Vedere Tutto di Just Dance Ci divertiremo Balleremo E canteremo Ma Scrivetemi Queste sono delle domande Scrivetemi Sotto nei commenti Cosa Vi è piaciuto Di canzone Ce ne sarà stata una Che vi è piaciuta Tra queste Che vi ho fatto vedere E vi sono piaciute E che volete Che ballo io Io Poi ad ottobre Sceglierò Tra tutte quelle Che mi avete chiesto E io ballerò Quella Che vi piacerà Che è stata Più selezionata Da voi Che dovrò ballare E che vi è piaciuta Poi Scrivete anche Iscrivetevi al canale Perché serve Se vi iscrivete Avete più news Faremo Più E novità Ci saranno a settembre Poi Mettete un pollicione Arriviamo A 60 Mi piace E ci sarà Un altro video Just Dance Magari faremo Just Dance 2017 E Per cui Ci vediamo Alla prossima Con un altro Magnifico E sorprendente Video Martedì Con un grande Arrivo A martedì Ciao 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 Grazie a tutti.